Qui a EnergyMed incontri B2B per avere un contatto stretto proprio con l'Europa e con il mondo intero. Esattamente, questa rientra nella mission dell'Istituto Policommercio Estero che è appunto per favorire l'internazionalizzazione delle imprese. Noi abbiamo portato 35 rappresentanti da 13 paesi che ieri in quest'area B2B hanno incontrato vari rappresentanti espositori che oggi stanno ancora incontrando facendo delle visite direttamente agli stand. Al fine ovviamente di promuovere la possibilità di vendere all'estero, di aprire nuovi mercati per queste ditte italiane. Noi cerchiamo sempre di favorire la possibilità di allargare il mercato verso i mercati esteri da parte delle ditte italiane. E quindi noi abbiamo selezionato delle persone sia tecniche che anche buyers e investitori per farli incontrare appunto nell'ottica e nella speranza che possano nascere dei partnership commerciali.